Fu un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Si può essere innamorati di un'idea? Mio papà era un sindacalista. Ecco, io lo so, adesso voi pensate al sindacalista con la giacca e le unghie curate. No, no, papà non era un sindacalista di quel tipo lì, no, papà faceva le sue ore di fabbrica, little seeder, tornitore e saldatore e poi, nel tempo libero, si occupava di sindacato. Mio papà era socialista, ecco, io lo so, adesso voi penserete a Bettino Craxi, a Belliteri, questa con la gentaglia lì, no, mio papà era un socialista più tipo Nenni, Bertini, ecco, un socialista di questo tipo. Mio papà, quando non si occupava di tornio, saldature e sindacato, coltivava il suo orto e il suo giardino, ovviamente garofani. Garofani che poi, col tempo, hanno lasciato spazio a Margherite, a Ulivi, Querce. Mio papà ha sempre combattuto contro i padroni. Ecco, per un certo periodo il suo padrone era un signore che si chiama Romano Prodi. Più là nel tempo, quando i garofani lasciarono spazio alle Margherite e agli Ulivi, papà, come tutte le persone di sinistra, si trovò a dover votare per Romano Prodi perché vinse le primarie. E me lo ricordo quella sera perché mi disse, sì che, noi si deve votare per Prodi. Parla di sì. Com'è successo? Io sono sempre stato un po' più a sinistra di mio padre, dico la verità, ho sempre avuto delle idee diverse dalle sue. Però una cosa importante, io ho sempre pensato che bisognasse tutelare gli ultimi, i deboli, i dimenticati, i diseredati, i disadattati, gli handicappati. Non si può dire. No, lo so, questa parola non si può dire. Andicappati non si può dire. perché è politicamente scorretto. È un concetto, è un trip, tutto nostro è italiano e ve lo dico perché gli inglesi, serenamente, li chiamano handicapped, i francesi handicappé, gli spagnoli minus valido, i tedeschi usano una parola che è behinderte, che esattamente vuol dire impedito. Quando sei stronzo proprio anche nella lingua. Comunque, noi diciamo diversamente abile, ma diversamente abile a fare che cosa? Cioè, se io e Oscar Pistorius, non so se ce l'avete presente Oscar Pistorius, è quello che ha inventato il biatron, corri e sparo. Se io e Oscar Pistorius facessimo una corsa, chi è il diversamente abile? Io che dopo cinque metri ho acido lattico anche nelle orecchie o lui che il suo più grande problema è avere un rom attaccato alle protesi che cerca di fottergli il rame. Avete riso? Lo so, che ho fatto una battuta sui rom, perché finché dico handicappato vi incazzate, ma se faccio una battuta sui rom, è universalmente riconosciuta l'idea. Siamo disposti a cambiarla se qualcuno ci sta sul cazzo. Comunque, io ho sempre difeso la mia idea. Ecco, la mia idea è sempre unica e sola. Sono forse le persone intorno a me che cambiano, sono le persone al quale decido di affidare la mia idea. Io ho cambiato molti schieramenti, ma la mia idea è rimasta sempre un uguale, perché cambiavano gli schieramenti, li ho vissuti un po' tutti. Rifondazione Comunista, Vertinotti, che poi ha visto la madonna. Ma ti rendi conto di come siamo finiti? Il movimento, il movimento è stato un momento incredibile. Lotte, discussioni firme, vaffanculi e poi, e poi? Abbiamo vinto! 32% si va a governare! Con chi? Con la Lega? Eh! Con la Lega? No! Ma non possiamo fare un'alleanza con la Lega? No, no, ma non è un'alleanza, è un contratto di governo. No, no, che cazzo dice? Non è un contratto di governo. Ma siete andati da Vespa a farlovi di male? No, e loro non vale! Ci possiamo tirare ancora indietro! Luigi! Ecco, perché la cosa bella è che io potevo scrivere a Luigi e gli ho scritto e gli ho detto Luigi! E lui ha capito, mi ha scritto Eeeh! E gli ho detto Luigi, ma cazzo la Lega? Governiamo con la Lega? No, mi è un conto di Luigi! Tu una domanda che devi fare, 49 milioni, non so meno, sono meno, ma dai Luigi! Voi lo sapete com'è finita, no? Estate, papete, mojito, crisi di governo. Crisi di governo, noi ci siamo abituati, eh! Noi ce l'abbiamo spessissimo, anche l'ultima, l'ultima, beh! È andato via Luigi, è arrivato Super Mario, come se questa crisi l'avessero scritta a Nintendo. Comunque, ci troviamo sempre nella stessa situazione, sempre nella stessa situazione, ma io comunque la mia idea non la cambio, che poi te l'ho detto, l'idea di tutelare gli ultimi, i dimenticati, i diseredati, quelli di cui non si ricorda mai nessuno. Ecco, si può cambiare idea, si può schierare in tutti i modi che volete, ma è sacrosanto, non si fa morire la gente in mezzo al mare. Voglio ancora, non si fa morire la gente, magari dimenticati di una galera in Egitto. Ecco, per dire, io non ho mai cambiato idea. Questa è un'idea che può essere di sinistra, di destra, della lega, del movimento, del PC, quello che cazzo vuole dire. Secondo me è un'idea senza colore e non dovrebbe averne, perché dovrebbe essere universalmente riconosciuta. Forse questa è davvero la cosa più importante che mi ha insegnato mio padre, che tra qualche giorno compirà 86 anni e io ho deciso, gli regalerò dei garofani rossi.